La gloriosa Lega Lombarda porge il benvenuto a tutti i popoli padani e ai popoli italiani. Noi abbiamo vinto in Lombardia, abbiamo vinto in tanti comuni, abbiamo vinto in comuni dove alcuni dei sindaci che vedete qua sul palco oggi hanno vinto da soli rifiutandosi di fare l'accordo anche con quelli che dovrebbero essere i nostri alleati, vedi il caso del mitico Fagioli a Saronno, da soli, da soli e abbiamo vinto da soli dopo che per mesi ci hanno detto che eravamo brutti e cattivi e razzisti semplicemente perché denuncevamo lo scempio dell'arrivo dei clandestini voluto dal governo Renzi e oggi oltre aver vinto le elezioni vediamo che la Spagna fa i respingimenti, che la Francia li ferma 20 miglia, che l'Austria gli offre un cappuccino e li riporta al Brennero in Italia, che la Svizzera non li fa entrare, che Malta non ci pensa neanche, che l'Ungheria costruisce un muro. Quindi cosa sono? Tutti i razzisti? Oppure la verità è un'altra? Che non è il resto del mondo essere brutto e cattivo e razzista, non è la Lega a essere brutto e cattivo e razzista, la verità è una sola, che noi abbiamo l'unico governo di ricoglioniti che li fa venire qua tutti e che paga loro la casa da mangiare, le sigarette e la ricarica telefonica. Non possiamo andare avanti così, noi vogliamo prima la nostra gente, prima la nostra gente. E vedete, i Lombardi sono un popolo generoso, sono un popolo dal cuore grande, ma la pazienza ha un limite. E io oggi voglio ricordare quei quasi 200 Lombardi che si sono tolti la vita dall'inizio della crisi economica con un governo che di questi 200 Lombardi e altri circa 200 italiani se ne fotte le palle e pensa a dare vitto alloggio all'ultimo clandestino che poi viene qua magari col macete o a delinquere e a fare quello che vuole a casa nostra. Non funziona così, non funziona così. E chiudo con una nota politica, leggendo i giornali delle ultime 24 ore, perché un nostro alleato, il signor Berlusconi, pare stia ripensando al patto del Nazareno. Ora scusate, scusate, non è che arrivano le elezioni, la prendi in quel posto sul Presidente della Repubblica e quant'altro e finisce il patto del Nazareno per due settimane e adesso che le elezioni sono passate rifà il patto del Nazareno. La Lega chiede al signor Berlusconi una cosa e ne offre un'altra. Gli offre un caffè e gli chiede di svegliarsi o con la Lega Nord e Matteo Salvini o con Renzi o col mentitore Renzi, col traditore Alfano e col caso da TSO Boltrini. Scelga con chi stare. Grazie, padagna libera!